Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vado a presentarvi il Calisthenics Official Circuit. Che cos'è il Calisthenics Official Circuit? È un circuito di endurance e strength che per il terzo anno Overbar è fiero di presentare in collaborazione con Burning Gate. Da cosa è costituito questo circuito? È costituito da 4 tappe nazionali, da una finale nazionale, la Final 8 che si terrà a Rimini Wellness e dalla grande novità di quest'anno che sarà l'internazionale che sarà tenuto a settembre. Ma partiamo dalle tappe. Come sono composte e dove sono queste tappe? Le tappe saranno 4 e sparse su tutto il territorio nazionale in modo che ognuno di voi possa parteciparvi e saranno fatte a Torino, Forlì, Catania ed Ascoli. Quando saranno? La prima sarà a Torino il 25 di novembre, la seconda sarà a Forlì il 24 febbraio, la terza a Catania il 24 di marzo, mentre l'ultima ad Ascoli il 28 di aprile. Come funzionerà la qualificazione, come funzionerà tutto il circuito? Partiamo dall'inizio. Partecipando alle tappe, ogni atleta entrerà a far parte di una classifica che è il ranking stagionale. Questo ranking stagionale darà la possibilità di qualificarsi direttamente alla finale nazionale di Rimini Wellness, alla Final 8. In che modo? Ovviamente accumulando punteggi per ogni tappa. Quindi il vincitore e gli altri che si qualificheranno in ogni tappa avranno un punteggio. Questo punteggio verrà sommato e a fine delle 4 tappe, i 4 migliori passeranno di diritto a giocarsi la finale nazionale a Rimini Wellness. Gli altri 4 posti invece saranno dati da coloro che vinceranno la tappa. Quindi se un atleta va a Torino e vince la tappa di Torino, automaticamente questo atleta sarà qualificato di diritto per la finale che si terrà a Rimini Wellness. Perché qualificarsi? Perché combattere e quindi venire a tutte le gare per accumulare punteggio? Perché oltre a un ranking stagionale ci sarà un official ranking. Questo official ranking che cos'è? L'official ranking è un ranking che è dato dalla somma dei punteggi di quest'anno e degli altri anni. Ovviamente gli atleti che hanno partecipato fino ad oggi al nostro circuito hanno già dei punteggi perché hanno dimostrato il loro valore in tutte le tappe, hanno comunque dato prova di loro stessi e quindi hanno accumulato dei punteggi. Attraverso l'official ranking si passerà di diritto all'internazionale, ma di questo vi parlerò tra un attimo. Le tappe, essendo 4, essendo divise sul territorio, saranno costituite da gare sempre diverse, a cui potranno accedere tutti i tipi di atleti, dagli atleti elite, agli standard, alle donne, ovviamente alla parte di strength più 80 e meno 80 kg. Attraverso appunto queste quattro tappe ci si qualificherà alla finale nazionale di Rimini in cui si andrà a competere, oltre che per il titolo, per l'accesso a questa grande novità che è l'internazionale. L'internazionale sarà tenuto a settembre e vedrà partecipare tutti gli atleti meritevoli, sia italiani che esteri. Gli atleti esteri, alcuni saranno dati dalle collaborazioni che abbiamo stretto quest'anno con la federazione spagnola piuttosto che con i russi, con gli atleti russi del Mutant Clan. Quindi parteciperanno tanti atleti forti di tantissime nazionalità. Appunto, come ci si fa a qualificare per questo internazionale? Ci si qualificherà attraverso l'official ranking e attraverso la final eight. In che modo? Attraverso l'official ranking, il primo dell'official ranking, quindi del ranking che tiene conto dei punteggi di stagione e i punteggi già ottenuti nelle scorse edizioni del Calisthenics Official Circuit e attraverso la vittoria del campionato nazionale tenutore mini awareness. Quindi, chi si qualifica all'internazionale? Il primo classificato alla final eight, il secondo qualificato alla final eight e il primo del ranking ufficiale. Ovviamente, l'internazionale sarà un evento riservato agli atleti elite e di strength più 80 e meno 80 kg. Quindi, ricapitolando in maniera veloce, Calisthenics Official Circuit, quattro tappe, otto posti per la finale nazionale che si terrà a Rimini Wellness, otto posti dati dal primo classificato delle quattro tappe, i primi quattro classificato del season ranking, che passeranno a loro volta, se vinceranno il titolo nazionale, quindi il primo e il secondo e il primo dell'official ranking, passeranno all'internazionale, a questo grande evento che nulla ha da invidiare a quello che è l'evento di freestyle ormai conosciuto e famosissimo della Burning Gate Cup. Quindi, ho cercato di spiegarvi quello che è la grossa novità di quest'anno, quello che è un evento unico, appunto, organizzato da noi con questo circuito, di aspetti numerosi, per qualsiasi cosa potete rivolgervi al sito Burning Gate, dove troverete tutte le informazioni, potete rivolgervi a noi come Overbar Workout, per avere qualsiasi indicazione o qualsiasi spiegazione più dettagliato, se non avete capito qualcosa, vi lascio a fine di questo video una schermata con un piccolo riassunto e vi aspetto numerosissimi alle gare. A presto e grazie di avermi seguito, ciao! Ciao!